Ho trovato finalmente la soluzione alla guerra in Ucraina, altro che cardinal Zuppi, pace, pacifisti, pacifinti. Signori, basta armi a Kiev. No, 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 perché sono contro le armi. Dobbiamo mandare armi a Mosca, perché i russi sono talmente cattivi che si fanno saltare il gasdotto No Stream 1, No Stream 2 da soli. Adesso anche la diga se la sanno fatta saltare da soli e i droni sul Cremlino se li sono buttati da soli. Se noi diamo le armi ai russi, quelli sono capaci, tanto cattivi sono, di ammazzarsi nell'arco, che ne so, di venti minuti, una mezz'oretta ed è finita, ed è finita.